Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna! Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Fiat 500X il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it Questo programma è offerto da Fidelity International Blu Reti News ancora qui con voi, vediamo insieme i titoli della giornata. 400 milioni per i nuovi PIR Incubo mega bolla sui derivati EFPA Meeting appuntamento a Torino Consulenti, ecco come investire alla velocità del 5G Nella manovra di bilancio in fase di approvazione in Parlamento sono in arrivo diverse novità per i PIR, i piani individuali di risparmio. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato la proposta del deputato deghista, Giulio Centemero, di introdurre l'obbligo per i PIR di investire a meno il 3% del loro capitale in mercati non regolamentati dedicati alle piccole e medie imprese, il che potrebbe far confluire parecchia liquidità sull'AIM, il listino di piazza affari dedicato alle società a capitalizzazione ridotta. Formalmente l'AIM è un mercato non soggetto a regolamentazione specifica e, proprio per questa ragione, potrebbe beneficiare degli effetti della norma contenuta nella manovra. Secondo le stime di Ambro Mobiliare, il vincolo del 3% per i PIR potrebbe far confluire sull'AIM risorse finanziarie aggiuntive per 240 milioni di euro, che potrebbero lievitare fino a 400 milioni grazie alla nuova raccolta futura dei PIR, anche se si mantenesse sui livelli ben inferiori a quelli toccati nei mesi scorsi. Il valore nozionale dei derivati in circolazione a livello mondiale potrebbe sfiorare 2,2 milioni di miliardi di euro, un valore pari a 33 volte il PIR globale e un potenziale rischio sistemico da far tremare le gambe. La prima indagine annuale dell'ESMA ha evidenziato che nei soli 28 paesi UE e l'entità delle transazioni in derivati è stata pari a 660 trilioni di euro nel 2017. La maggior concentrazione resta a pannaggio delle banche europee, come infatti riportano alcuni dati di Mediobanca, e primi 27 istituti continentali facevano capo nel 2017 derivati per un valore nozionale di ben 283 mila miliardi di euro, pari al 42% dei derivati UE quantificati dall'ESMA. Deutsche Bank, Berkley's e Credit Suisse arriverebbero a 113 miliardi, più delle 14 maggiori banche americane messe insieme, cifre che fanno paura data la poca attenzione della vigilanza ai rischi connessi all'innovazione finanziaria. Sono ufficiali le date dell'EFPA Italia Meeting 2019. L'appuntamento annuale dell'associazione guidata dal presidente Marco De Roma avrà luogo giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019. A raccogliere il testimone da Riccione sarà Torino. Il luogo dell'evento, giunto ormai la sua dodicesima edizione, sarà infatti il 100 congressi d'ingotto. EFPA Italia Meeting si è consolidato nel tempo, riuscendo ad attraire un pubblico di professionisti sempre maggiore, grazie al connubio tra informazioni di qualità e possibilità di networking. Stiamo lavorando ad un programma che sia in grado di offrire contenuti di elevato livello che vadano ad approfondire i temi più caldi nel settore della consulenza, ha commentato De Roma. Con una velocità mille volte maggiore di quanto si naviga ora, la tecnologia 5G è il big trend del futuro. Dall'entertainment alla realtà virtuale all'internet of things, gli standard di quinta generazione promettono di rivoluzionare tutti i settori nonché le nostre abitudini di vita. Un esempio? Un film di due ore si potrà scaricare in 30 secondi, ecco perché diventa fondamentale capire il fenomeno in atto e investire con gli strumenti finanziari più adatti per non lasciarsi sfuggire questa opportunità di crescita. Se ne parlerà il prossimo 12 dicembre durante webinar organizzato da BluRating in collaborazione con Von Tobel. Per iscrivervi andate sul sito blurating.com. Qui da BluRating News è tutto, un buon weekend e un auguro di buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattalistica, gestione portafoglio. BluAdvisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.bluadvisor.com